Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi torniamo a parlare del nazionale di Yu-Gi-Oh! Ovviamente non del main event, che comunque rimane l'evento principale, ma di tutti i side event che verranno organizzati durante l'evento, che partiranno ovviamente venerdì fino a domenica. Ma adesso andiamo a vederci come organizzati. Durante tutto il weekend avremo quattro tipologie ovviamente di eventi differenti, ovvero costruito, speed duel, e ovviamente i formati time wizard, sia con la banner list di marzo 2010 che quella di marzo 2005. Tutte e quattro le tipologie di evento saranno strutturate così. Il costo sarà di 10 euro e si potranno ottenere come premio di partecipazione o due bustine di led o di OTS, che comunque non è male. Il formato sarà formato avanzato con otto giocatori. L'unica differenza è che nel torneo di speed duel rispetto agli altri sarà formato eliminazione diretta, quindi ovviamente se perderete la partita verrete eliminati, mentre per tutti gli altri sarà alla meglio delle tre. Le iscrizioni partiranno venerdì alle 12, sabato alle 13 e domenica alle 9, per tutti. E i premi saranno divisi così. Il vincitore avrà otto biglietti premio, il finalista tre e i semifinalisti uno solo. Partiamo parlando degli eventi del venerdì. Le iscrizioni, come vi ho detto, saranno aperte dalle 12. Tutti gli eventi schedule prevedono quattro turni di Svizzera, se non viene specificato diversamente, e gli orari di inizio degli eventi sono da intendersi come indicativi e possono essere soggetti a variazioni, quindi ragazzi nel caso informatevi. I premi degli eventi schedule, nel momento in cui fate 4-0-0 avrete 12 biglietti premio. 3-0-1 9 biglietti premio, 3-1-0 6 biglietti, 2-1-1 o 2-0-2 4, mentre con 2-2-0 solo 2 biglietti. Il venerdì avremo il 3v3 Team Dueling Advanced Construct e ovviamente come premi di partecipazione, come vi ho detto, saranno due pacchetti di lede o l'OTS, il costo sarà di 10€. Il formato sarà 3v3 Team Dueling Svizzera. Le iscrizioni chiudono alle 12.45 e si inizierà alle 13 e ovviamente per i premi, come ho detto prima. Poi, invece, per quanto riguarda il Time Wizard Banalist 2005, ci saranno sempre due pacchetti di lede o l'OTS. Potranno partecipare fino a 128 giocatori, ragazzi, quindi state attenti e iscrivetevi subito perché sennò i posti finiscono. Le iscrizioni chiudono alle 13.45 e si inizierà alle 14. Postiamoci adesso a sabato. Le iscrizioni verranno aperte alle 13, ragazzi, quindi occhio. Avremo come premio o 4 pacchetti di lede o i pacchetti di OTS e il costo a questo giro è di 20€. Il formato sarà formato avanzato Svizzera e le iscrizioni chiudono alle 14.45 e si inizierà alle 15. Per i premi, ovviamente, fate riferimento alla schedule che abbiamo visto prima. Poi avremo l'ultimate Time Wizard Tournament, il Day 1, e ovviamente qua il costo, ragazzi, è di 25€. Avrete qua o 5 pacchetti di lede o i pacchetti di OTS. Il formato sarà Time Wizard Svizzera con top cut fino a 256 duellanti, quindi, ragazzi, avete un pochino più di tempo rispetto a prima, però ovviamente occhio. E la Banned si utilizzerà quella rilasciata fino al 28 aprile 2010. Le iscrizioni chiudono alle 16.40 e si inizierà alle 17. E i premi a questo giro sono molto interessanti. Il vincitore avrà la Giant Card, ragazzi. Poi, per il secondo terzo posto abbiamo l'Oversight Card e per la top cut abbiamo i Playman. Concludiamo adesso con domenica, ragazzi, che è la giornata, diciamo, più corposa tra le tre. Abbiamo, ovviamente, le iscrizioni che si aprono alle 8.30, quindi, ragazzi, subito muovetevi. Abbiamo il Day 2 del torneo di sabato, ovviamente, Time Wizard. Poi abbiamo l'Advanced Constructed Attack of the Giant Card, ragazzi. Anche questo evento molto importante. Si daranno o 5 pacchetti di lede o pacchetti di OTS e il costo è sempre di 25€. Sarà formato avanzato fino a 128 duellanti con eliminazione diretta, ragazzi, quindi attenti. Le iscrizioni chiudono alle 9.45 e si inizierà alle 10. Il vincitore, anche a questo giro, si porterà a casa la Giant Card. Che arriva al secondo e terzo avrà l'Oversight Card e poi il quarto 16 biglietti, il quinto dal quinto all'ottavo 12 e dal nono al sedicesimo 6. Abbiamo anche il multi-format dopo, 3v3 team dueling, costo 10€ e verranno dati o due pacchetti di lede o pacchetti di OTS e i formati che potrete giocare saranno un giocatore dovrà giocare avanzato, uno Time Wizard con la Banded di marzo 2005 e uno Time Wizard con la Banded di marzo 2010. Le iscrizioni qua chiudono alle 11.15 e il torneo inizierà alle 11.30. Ovviamente per i premi, sempre la schedule che abbiamo visto prima. Apriamo anche il torneo Advanced Constructed Attack of the Giant Card, costo ovviamente sempre 25€, verranno dati 5 pacchetti di lede o gli OTS, sarà formato avanzato fino a 128 duellanti e sarà anche questa eliminazione diretta. Le iscrizioni ragazzi chiudono sempre a mezzogiorno e 45 e si inizierà alle 13. Il vincitore avrà ovviamente la Giant Card, secondo terzo posto l'Oversight, poi quarto posto 16, dal quinto all'ottavo 12 e dal nono al sedicesimo 6. Mentre come ultimo evento avremo il Sunday Advanced Constructed Tree Round Double Up, costerà 20€, verranno dati 4 pacchetti di lede o pacchetti di OTS. Il formato sarà formato avanzato svizzera, 3 turni, le iscrizioni per questo chiudono alle 14.15 e si inizierà alle 14.30. I premi saranno divisi così, 9 match point, 16 biglietti, 7 match point, 8 biglietti e 6 match point, 2 soli. Bene ragazzi, questi sono tutti i eventi che ci saranno al nazionale quest'anno. Io ve lo dico, parteciperò ai tornei Time Wizard di entrambi i formati. Vediamo se becco qualcuno di voi e non vi spoiler cosa gioco, vediamo se qualcuno nei commenti riesce a indovinarlo. Detto questo ragazzi fatemi sapere ovviamente voi a quale evento parteciperete e ovviamente se verrete o meno. Detto questo ragazzi state mai easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!